Passi in avanti europei, almeno a parole, per l'Ucraina. Dopo la visita di mercoledì scorso al Parlamento europeo di Strasburgo del Presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanciuk, Bruxelles accelera. Le parole le pronuncia la Presidente maltese del Parlamento europeo Roberta Mezzola intervenuta al Democracy Summit di Copenhagen in Danimarca. L'Ucraina fa già parte della nostra famiglia europea. Ma è giunto il momento di darle anche la reale opportunità di entrare a far parte del nostro progetto europeo. Il Parlamento europeo, che ho l'onore e la responsabilità di presiedere, sostiene fermamente la richiesta dell'Ucraina di ricevere lo status di candidato all'Unione europea. Durante il Democracy Summit, da Kiev è intervenuto in videocollegamento il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dobbiamo finalmente eliminare questa zona grigia che fa così gola allo Stato russo. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Avete detto, l'Ucraina fa parte della famiglia europea. Ebbene, nelle prossime settimane l'Unione europea potrà compiere un passo storico che dimostrerà che le parole sull'appartenenza dell'Ucraina alla famiglia europea non sono parole vuote. Secondo i dati resi noti dall'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, aggiornati al 7 giugno, i cittadini fuggiti dall'Ucraina sono 7 milioni e 300 mila, di cui 2 milioni e 300 mila rientrati nel paese con la guerra in corso. 4 milioni e 800 mila ucraini ora vivono nei paesi dell'Unione europea con una protezione temporanea che consente ad esempio ai bambini di frequentare le scuole.